amici di atti sport 24 ben ritrovati nuova puntata di due metri la pallannuto vista da vicino è davvero un immenso piacere un onore avere oggi il nostro ospite il difensore della prorecco e del sette bello nicolas preciutti ciao nicolas benvenuto grazie di aver accettato il nostro invito ciao grazie mille per la presentazione è il minimo anche perché meritata con anni di una carriera veramente che parla da sola potrei dire grazie iniziamo la nostra chiacchierata dalla ultima esibizione ufficiale come avete archiviato la vittoria ottenuta col savona in gara 2 di semifinale è stata una bella semifinale tutte e due le partite la seconda partita il ritorno è stata una bella partita intensa la partita che ci voleva diciamo che prepararci poi a questa finale scudetto abbiamo avuto la fortuna di trovare un savona maidomo che ha giocato fino alla fine che ce l'ha messa tutta per permetterci i bastoni fra le ruote e per noi era importantissimo almeno ci siamo ci siamo preparati per per la finale scudetto assolutamente e l'hai detto tu un savona maidomo che nonostante l'assenza del capitano rizzo per squalifica ha dato battaglia è arrivato anche al doppio vantaggio sul 6 a 4 e poi ceduto nel finale se ti fermi un attimo e provi a individuare la chiave che vi ha permesso di girare la partita e di indirizzarla poi definitivamente a vostro favore nelle battute conclusive dove vai a concentrare la tua attenzione dov'è che è cambiato il match no secondo me è cambiato l'atteggiamento della squadra forse abbiamo iniziato la partita un po' troppo non ti ho senti non ti sto sentendo perdonami no diciamo abbiamo stavamo diciamo sotto preparazione abbiamo fatto un po' fatica all'inizio poi quando ci siamo siamo concentrati diciamo tra virgolette siamo tornati noi stessi sempre sul pezzo concentrati con ogni momento siamo riusciti a iniziare la partita dove volevamo certo i tre giorni in più che avete avuto a disposizione rispetto ai vostri avversari in che misura possono incidere nella preparazione della sfida oppure da atleta di grande esperienza quale sei questa situazione non conta niente perché magari loro limeranno questa differenza in un qualche altro un qualche altro modo secondo me sta poco relativamente poco anche perché siamo tutti abituati a giocare partite ravvicinate soprattutto quest'ultima stagione abbiamo giochiamo tante partite di fila sono stati periodi che giocamo ogni tre giorni magari per due settimane quindi siamo abituati sicuramente magari noi abbiamo preparato tra virgolette un po' di più la sfida con loro mentre così concentrati un po' sulla semifinale ma non penso che cambi molto anche perché poi ogni partita a sé quando arrivi a giocare una finale scudetto penso che non esista stanchezza o o altro vai in acqua e dai 100 per cento e tiri fuori tutto quello che c'è anche perché hai lavorato una stagione intera per giocare più partite di fila quindi penso che non conti molto se andiamo a valutare i precedenti stagionali siete in vantaggio per 3 a 0 in campionato le vostre due vittorie sono state anche abbastanza nette questo dato può pesare in qualche misura dal punto di vista psicologico a vostro favore oppure da domani si riparte 0 a 0 ed è tutto totalmente nuovo sì no come hai detto assolutamente no da domani si riparte 0 a 0 anche perché le partite fra fra Ricco e Brescia storicamente sono tutte partite a sé sia che vale uno scudetto una partita di regular season una fine della Coppa Italia comunque nessuna delle due ci sta mai a perde quindi non penso che conti molto le partite che si sono giocate sono già state dimenticate adesso siamo 0 a 0 inizia la sfida scudetto rispetto all'anno scorso le circostanze hanno costretto eh la federazione a eh cambiare un attimo la formula dalla serie al meglio delle cinque al quella al meglio delle tre questo secondo te eh può penalizzare in qualche modo lo spettacolo oppure ci possiamo comunque aspettare tre partite sul livello anche di quella dello scorso anno no c'è sicuramente giochiamo tre partite dello stesso livello lo spettacolo ci sarà comunque sicuramente le due partite in più è più divertente magari c'hai c'hai più partite belle da da giocare e da vedere però comunque lo spettacolo non non mancherà tutte e due squadre come ho detto prima vogliono vincere sarà una battaglia aperta fino all'ultimo e iniziamo a parlare di questa battaglia domani eh lo ricordiamo alle ore diciotto con diretta tv su Rai Sport eh si scende in acqua per gara uno che partita ci possiamo aspettare? Ah sarà sarà una bella una bella partita sarà una partita intensa giocata con con ritmi alti ci saranno parecchi contatti loro sono una squadra che gioca molto molto bene il pressing e poi ripartono bene in contropiede quindi dovremmo stare attenti a a non scoprirci troppo rimanendo sempre comunque concentrati sul nostro gioco noi alla fine ci abbiamo il nostro gioco non cambiamo nulla eh da avversario avversario siamo concentrati su su quello che vogliamo fare sulla nostra strada e sarà sarà una bella sfida veramente una bella sfida io non posso esimermi dal farti questa domanda credo sia il secondo anno però Nicola Spreciutti contro Cristian Presciutti quale emozione il duello il duello nel duello va la la metto così è divertente sicuramente più per per voi diciamo per fuori poi no alla fine uno gioca eh nella Prorecco l'altro nel Brescia quindi conta conta solo quello poi noi ci divertiamo sicuramente a giocare queste partite perché vogliamo vincere tutte e due abbiamo siamo molto competitivi entrambi nessuno dei due ci sta a perdere quindi in acqua diamo sempre il massimo anche quando giochiamo contro poi soprattutto quando giochiamo contro deve cioè la la concentrazione doppia perché eh non ti mai fa fregata al fratello sai ti fai fregata al fratello e poi sei fregato te lo ricorderai ti prenderai in giro per per sempre quindi si deve la concentrazione doppia quando giochi contro di lui chiudiamo con un'ultima battuta un'esperienza che hai già vissuto nel match di Champions League contro il Marsiglia che cosa vuol dire per un atleta di alto livello giocare partite che valgono un titolo nella splendida cornice della ferro di punta Sant'Anna e con il ritorno del pubblico no e giocare qua col nostro pubblico è fantastico veramente c'è un calore eccezionale è veramente veramente bello e divertente anche perché poi tu in acqua quando senti il calore del pubblico c'hai quella carica in più quella forza in più quando quando le cose magari non vanno ma non vanno bene senti l'appoggio del pubblico ti carichi quando stai andato bene i guardi vedi che che tutto va bene secondo me è importantissimo è importantissimo l'affetto che ci danno i tifosi recchellini qua è fantastico gioca qua e siamo pronti a dare soddisfazioni qua a casa nostra va bene siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata ringrazio Nicola Spreciutti per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Nicola grazie mille ciao a tutti